Buona giornata amici da Massimo Foghetti, bentrovati alla rassegna stampa di Pano TV. Oggi è mercoledì 13 aprile 2022 e oggi si festeggia San Martino Papa, siamo poco dopo che il cristianesimo non ha avuto problemi per quanto riguarda le persecuzioni, dopo l'editto di Costantino in realtà dei problemi ne ha avuti, anche perché San Martino Papa fu addirittura martirizzato. Erano i tempi dell'imperatore Costante, Martino fu catturato, l'imperatore Costante risiedeva a Costantinopoli mentre il Papa ovviamente era a Roma. Il Papa comunque combatte l'eresia dei monoteliti e insomma che aveva fatto breccia anche nel cuore di Costante dell'imperatore, per cui l'imperatore decise di catturare il Papa a portarlo a Costantinopoli. E qui dopo averlo imprigionato, fateli passare un po' di tutti i colori, il Papa fu martirizzato e quindi condusse una vita particolarmente molto molto dolorosa. E veniamo alle previsioni del tempo, vediamo come oggi il tempo si mantiene stabile sulle marche, abbiamo cieli offuscati leggermente da nubi alte in transito, però con ampie schiarite, soprattutto nella mattinata. Le temperature oscilleranno dagli 8 ai 15 gradi in lieve regresso rispetto alle massime dei giorni scorsi, comunque il sole dovrebbe prevalere in questa giornata e già questa mattina, come accade da un po' di giorni, l'alba era bellissima. E veniamo alle notizie della giornata a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. E vediamo come il tema predominante è quello delle scogliere, sì perché ieri l'assessore regionale Stefano Aguzzi è venuto a Fano, è tornato nella sala della Concordia, dove ai tempi in cui era sindaco ha tenuto tante conferenze stampa e con i tecnici della regione ha fatto un resoconto di tutti gli interventi che la regione effettuerà per potenziare la difesa della costa. Il comune di Fano, c'era anche il sindaco Massimo Seri, il comune di Fano ha uno dei tratti di costa più lunghi della regione Marche, 22 chilometri, certo non è facile proteggerli tutti. Comunque già buona parte è stato fatto e l'assessore regionale ha evidenziato come verrà questa volta finanziato uno studio, questo è importante perché forse era la parte più trascurata della costa, uno studio per la protezione del litorale che va da Fossoseiore a Gimarra, a Lido, diciamo meglio. Qui ci sono quattro concessioni balneari e in alcuni tratti la spiaggia è completamente scomparsa, le onde si infrangono sulla barriera della ferrovia ed ecco perché anche le ferrovie potrebbero essere interessate a finanziare questi tratti dove i binari sono letteralmente scoperti. Poi si è parlato del finanziamento della scogliera che andrà a coprire il vuoto lasciato davanti ai bagni Carlo, un vuoto che sta creando gravi problemi a questa concessione. C'è uno scalino provocato dall'erosione di un'altezza quasi di mezzo metro e poi verrà consolidato l'argine destro del fiume Metauro dalla Foce alla frazione di Tombaccia. Si tratta di un importo di 480 mila euro. Consolidato anche l'argine dell'Arzilla con 380 mila, soprattutto per l'argine che fronteggia il ponticello pedonale che valica il torrente. E poi il tratto dell'argine che va dal ponte ferroviario al ponte della statale adriatica. E poi l'intervento più importante, quello che si sta eseguendo a Metauiglia. 4 milioni di euro, 2 milioni finanziati dalla regione, 2 milioni finanziati dalle ferrovie dello Stato perché qui si protegge soprattutto la linea ferroviaria. 4 milioni a cui verranno associate una cifra altrettanto importante, altri 4 milioni per l'esecuzione del secondo stralcio. Quello che interessa in modo particolare le concessioni balneari perché nel primo stralcio dei bagni non ce ne sono. Però insomma nel secondo stralcio che verrà finanziato con i fondi del PNRR insomma interessa molte concessioni balneari. Ed infine 500 mila euro sono stati stanziati per coprire il buco, diciamo così, che si trova davanti all'ex pista dei go-kart, che è l'ultima cenerentola delle scogliere rimaste da completare nel litorale fanese. Il Corriere di Attico parla anche delle tasse tari recuperati 1,5 milioni dalla evasione. E' stato obbligatorio pagare purtroppo nonostante i problemi causati dalla crisi economica, dalla pandemia. Ebbene la ditta Andreani ha fatto il suo lavoro e ha trovato numerose sacche di evasione contestate ovviamente anche sul piano politico dalla opposizione però insomma il consuntivo che ha fatto l'ufficio Tributi ha legato appunto al consuntivo globale per quanto riguarda la situazione finanziaria del Comune ha mostrato che l'incasso è stato questo, quasi un milione e mezzo di euro. E intanto Fano ha fatto la sua vetrina al BIT di Milano. Fano propone un'esperienza turistica intensa. Lo vediamo qui a fondo pagina. Lucarelli, l'assessore al turismo, ha presentato alla BIT le manifestazioni più importanti. Il Festival Jets, il Festival Passaggi, il Festival del Brodetto e il Carnevale. Il Carnevale che quest'anno si svolgerà per quanto riguarda le famiglie nel mese di giugno e per quanto riguarda la sfilata dei carri nel mese di agosto. E poi ci sarà il nuovo consiglio e speriamo che il prossimo anno si faccia il Carnevale secondo le regole canoniche nei giusti periodi in cui deve essere effettuato. E si parla anche di autovelox oggi sui giornali. Sotto un punto di vista un po' particolare. Leggiamo soprattutto prima di tutto il titolo. Gli autovelox rallentano le auto, questo è scontato, ma sui social corre la protesta. Gli occhi elettronici non sono ancora in funzione e i risultati già si vedono. Ebbene l'ottica che ora appare un po' nel modo di pensare comune è questa. In questi giorni sono infatti comparsi dei post, dei messaggi sui social caratterizzati da forti preoccupazioni. In alcuni casi il dissenso è stato netto, no al multavelox, che quasi traspare un tono di rimprovero verso le reiterate proteste dei residenti riguardo alla pericolosità della statale adriatica sud. Come per dire, ecco che bel risultato avete tenuto. Insomma, prevale più la protesta nei confronti dell'introduzione del multavelox che la protesta nei confronti di chi non osserva le regole del codice della strada. Insomma, queste veramente causano il pericolo. Le altre, insomma, spetterebbero così, vorrebbero la libertà di derogare. Forse qualcuno ha così ragione di protestare perché 50 km sarebbero, secondo lui, un limite troppo basso per essere rispettato, però insomma un po' di sacrificio occorre farlo perché le vittime che si sono realizzate, insomma, che si sono verificate in questo tratto di strada sono tante e veramente ognuno destra un dolore immesso. E parliamo di Pasqua. Parliamo di Pasqua per quanto riguarda le iniziative che sono organizzate dal Diocesi, soprattutto dal Vescovo Armando Trasarti. Carcerati e profughi, il Vescovo raddoppia la lavanda dei piedi. Tradizionalmente il Vescovo il giorno di Pasqua ha visitato il carcere di Fossombrone, ma quest'anno farà la lavanda dei piedi anche ai profughi ospiti nel nostro territorio. I riti della settimana santa sono stati evidenziati ieri dalla Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Oltre alla lavanda dei piedi dei riclusi di Fossombrone ci sarà quella dei profughi ucraini nella villa di San Biagio dove sono ospiti del Don Orione. Monsignor Armando Trasarti domani sarà alle 14.30 nella casa di reclusione per chinarsi su un catino d'acqua e lavare i piedi ai detenuti. Sabato alle 14.30 celebrerà la Pasqua con la comunità ucraina di Don Orione. Domenica scorsa ha portato la sua testimonianza, una testimonianza decisa, intensa, vibrata alla camminata della pace che si è svolta nel centro storico dalla cattedrale in piazza 20 Settembre. E poi un'opera meritoria del Vescovo Trasarti, quella di aver consolidato, restaurato molti edifici religiosi ed ora tocca al centro pastorale di Ocesano di Via Roma, l'ex seminario regionale. Mezzo milione per il restauro, soprattutto della facciata, un risanamento conservativo dell'edificio che si trova in Via Roma. Riguarda in primis l'intonaco deteriorato che verrà rimosso e verrà sostituito con quello, con uno compatibile con l'originale. E poi sono stati realizzati, vengono realizzati altri lavori specifici, tra i quali il rifacimento dell'intonaco mancante, la rasatura delle superfici, l'impermealizzazione appunto delle cornici e la tinteggiatura finale. Alla fine l'ex seminario regionale apparirà nel suo splendore come è stato realizzato nel 1923 sull'antica consolare Flaminia. Era una volta un edificio veramente importante. E vediamo la pagina di Senigallia dove si parla delle aspettative per quanto riguarda le presenze turistiche. Siamo nei pressi di Pasqua. A Pasqua qualcuno si muove, comincerà un po' a ispezionare, a fare qualche piccolo viaggetto, qualche gita fuori della propria città. Gli operatori turisti sono pronti. Turisti mordi e fuggi. A vero sarà soltanto delle visite fugaci. Scatta il last minute per Pasqua. Insomma, comunque qualche prenotazione comincia a verificarsi. E il presidente degli albergatori di Senigallia, Manfredi, dice da lunedì cominciano ad arrivare le richieste. Il giornale dice molte richieste. Io sarei un pochino più prudente. Il territorio in vetrina sulla BIT. Insomma, come tutte le località del territorio marchigiano che hanno delle risorse di carattere turistico e culturale veramente splendide. Vediamo anche un altro titolo sulla pagina di Senigallia. Sul web le denunce di degrado. Il comune attiva l'indirizzo mail. È l'assessore Campagnolo che ha questa iniziativa, che realizza questa iniziativa. Così le segnalazioni, ha detto, verranno prese in carico subito dagli uffici. Una lotta al degrado per rendere la città non solo più bella, ma anche più sicura. Il comune ha infatti messo a disposizione un indirizzo e-mail per le segnalazioni che spesso vengono fatte sui social, ma non giungono ai responsabili che dovrebbero poi agire, intervenire. Insomma, qui vediamo delle fotografie, tre fotografie di siti degradati appunto di Senigallia. A sinistra la situazione dell'ex Hotel Marche. Al centro una delle panchine che sono state vandalizzate dai giovani e a destra i rifiuti abbandonati nell'area dell'ex Yat. Yat che dovrebbe essere, insomma, un centro di interesse turistico, perché poi è lì che i turisti vanno a chiedere informazioni. In questo caso però si tratta di Exe. E veniamo alla pagina di Pesaro, anzi, sulla pagina delle Marche, dove si parla in maniera analitica dell'arretramento della ferrovia adriatica. Oggi è convocata una conferenza stampa nel Comune di Fano che parlerà del tema, in cui si parlerà del tema. E qui ci sono invece diverse dichiarazioni fatte da esponenti politici, da amministratori, per quanto riguarda questo tema, che è un tema controverso. La ferrovia da arrestare sarà un libro dei sogni? Intanto parta Pesaro. I parlamentari marchegiani sono divisi. Il centrodestra, no, serve un progetto regionale. E tra tante dichiarazioni ne ho scelte qualcune. Vediamo un po', sono rappresentative di varie forze politiche. Alessia Morani, deputato del Partito Democratico, è una follia rifiutare 1,2 miliardi per il bypass di Pesaro, ha dichiarato. Mauro Coltorti, che è senatore del Movimento 5 Stelle, occorre fare valutazioni serie sulla fattibilità e pone un po' l'accento sullo studio preciso, puntuale, che deve essere fatto. Invece Mauro Lucentini, che è un deputato della Lega, dice per la Regione è più importante la terza corsia. Poi Lucia Albano, deputata dei Fratelli d'Italia, non si proceda danneggiando le altre città. Ci vuole un progetto comprensivo che possa coinvolgere tutto il territorio. E vediamo anche una dichiarazione del Sindaco di Marotta, del Sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. L'arretramento migliorerebbe la vita dei nostri concittadini. Importante è ragionarci. E poi un articolo che riguarda la seconda pagina, dedicata a questo tema sul Corriere. Ci vuole una visione unitaria, d'accordo il bypass pesarese. Ma poi tutti gli altri comuni e in mezzo c'è anche Fano, che è stata scartata da questa iniziativa. E vediamo ora le altre notizie che riguardano Pesaro. Si tratta di investimenti per quanto riguarda le scuole. Scuole nuove e riqualificate. Il Comune ci mette 10 milioni di euro. Interventi su quattro istituti della città. Si vengono fatti a Muraglia, a Borgo Santa Maria, in via Rigoni e a Villa San Martino. Pozzi e Murgia. L'obiettivo è rendere gli edifici sempre più sicuri, vivibili, integrati e sostenibili. Ebbene, si tratta della scuola media Dante Leghieri, dove verrà effettuato un investimento di 6 milioni e mezzo di euro, che è stato già appaltato, di cui i due terzi sono coperti da un finanziamento regionale. E poi abbiamo l'attuale immobile scolastico di Soria, che verrà demolito e ricostruito dalla parte relativa alle classi e altri spazi. Non verrà invece toccato l'auditorium e la palestra. Lunedì in Consiglio Comunale poi è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Polo dell'Infanzia di via Rigoni. Edilizia scolastica ancora al centro di due delibere di giunta, approvate anche queste ieri mattina. Si tratta dei lavori alla scuola di Borgo Santa Maria e alla primaria di via Fermi a Muraglia. Quindi importanti investimenti. Al via rotatoria e strettoia, ma i residenti di case bruciate sono poco favorevoli. L'assessore Belloni, ieri presente all'assemblea di questo quartiere, ha così spiegato, illustrato i provvedimenti per ridurre la velocità dei veicoli. Le soluzioni verranno proposte rispetto a tre opzioni. Le installeremo nel caso e poi nel caso le modificheremo. Insomma, si fanno delle sperimentazioni. L'autovelox, ha detto Belloni, non si può mettere nei centri abitati se non con una pattuglia posizionata prima dell'impianto che deve essere sempre presente. Ma in questa zona, ha detto Belloni, non ci sono i requisiti. e poi occorre valutare la possibilità di realizzare una rotatoria, una strettoia. Ma sono tutte strutture che poi creano problemi per quanto riguarda la compatibilità con le case che prospettano sulla stessa strada, un po' come è avvenuto a Fano in via Trave. Bando per l'accoglienza, e si parla di profughi, è ora del terzo settore. Terzo settore che viene coinvolto dalla Prefettura. E ieri c'è stato un vertice nella Prefettura di Pesaro-Urbino sulle nuove disposizioni nazionali e il modello diffuso. Comunque sono delle disposizioni che hanno suscitato delle perplessità delle associazioni. Infatti c'è poca chiarezza sul fronte delle vaccinazioni che dovrebbe essere una pratica subito da approntare, da realizzare per la sicurezza, restare insomma la diffusione della pandemia che è ancora molto molto presente nel nostro territorio. Il modello di accoglienza diffusa per gestire la fase 2 dei profughi ucraini è stato appunto al centro di questo vertice. E poi un fatto di cronaca. Minaccia il creditore con il coltello. La droga era fasulla, ha ceduto un piccolo quantitativo di droga. Era cioccolata in realtà, ma lui i soldi li vuole lo stesso. È stato aggredito in piazza, quello che non voleva pagare ovviamente, e l'uomo è stato arrestato ed era già stato condannato a due anni di carcere. Si tratta di un aivoriano, un ventottenne appunto che è stato arrestato in piena piazza del popolo. E vediamo ora il resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata alle scogliere in merito alla conferenza stampa che si è svolta ieri nella Sala della Concordia del Palazzo Municipale di Fano. Qui vediamo l'assessore regionale Stefano Aguzzi insieme al sindaco Massimo Seri. L'assessore regionale ha annunciato l'arrivo di risorse anche grazie al PNRR, vantaggi per il turismo e ovviamente anche per i residenti. E poi vediamo qui una dichiarazione di scuse da parte della proprietà, anzi da parte del presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno che gestisce la piscina di Pesaro. Vi ricordate la notizia di ieri quando una signora 53enne di Fano si era recata per fare il bagno in piscina ma essendo una disabile è stata allontanata. È stato un malinteso ha dichiarato Fabrizio Bittner che appunto è il presidente dell'associazione forse un errore dovuto a un eccesso di zelo dell'addetta alla reception. Ci scusiamo con la signora Nicoletta e la invitiamo a venire in piscina. Così ha dichiarato appunto porgendo le sue scuse il presidente e la signora aveva ragione di protestare. Nuovo centro, nuovo intervento da mezzo milione così il centro pastorale risplende. Qui vediamo una bella fotografia della facciata del centro pastorale diocesano di Via Roma già oggetto di lavori al termine dei lavori. La facciata è già stata restaurata e l'edificio risplende. E poi ci abbiamo qui un resoconto parziale del Consiglio Comunale che si è svolto ieri a Fano. Si è parlato diffusamente della variante urbanistica relativa alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport che è stata approvata nonostante il voto contrario delle opposizioni a cui non è stato gradito la localizzazione di questo palazzetto di questo impianto sportivo e poi è finito un po' nelle mire delle minoranze l'assessore e vice sindaco Fanesi al quale sono state richieste le dimissioni dimissioni respinte da tutta la maggioranza. Respinta la mozione di sfiducia della Lega nei confronti dell'assessore e vice sindaco sono otto anni che non riuscite a mettere mano al piano regolatore. Questa è stata un po' l'accusa principale che la Lega e tutti gli altri partiti di minoranza hanno rivolto non solo all'assessore urbanistica ma anche a tutta la Giunta. E sull'impianto a Chiaruccia scelta del sito del tutto sbagliata secondo Lucia Tassi di Fratelli d'Italia ma secondo anche gli altri esponenti delle minoranze. A Urbino è calato il buio in piazza ed esplode la protesta. Da oltre una decina di giorni in un largo vicino a porta a Santa Lucia non si vede più nulla è cominciato a spegnersi prima un lampione e poi tutti quanti gli altri e c'è chi ha messo anche delle candele sui davanzali per evidenziare in modo molto molto visibile la sua protesta costretti ad accendere le torce dei cellulari per cercare la toppa della serratura addirittura insomma una cosa un po' curiosa e qui vediamo le due fotografie un po' con questo di giorno e questa di notte ma di notte vedete come il luogo della piazzetta della piazzetta appunto di Urbino è molto oscuro ed è forse anche un po' pericoloso a Barchi invece monta la protesta dei sindaci perché non vogliono il biodigestore e sono i sindaci di tre comuni sono i comuni di Terre Roveresche di Mondavio e di Fratte Rosa rispettivamente Antonio Sebastianelli Mirko Zenobi e Alessandro Avaltroni che ribadiscono il loro no all'impianto e si dicono pronti a ricorrere ai tribunali amministrativi in caso venga rilasciata l'autorizzazione appunto del biodigestore di Barchi non ne vogliono sentire parlare ma dove realizzare quest'impianto ancora non si sa e vediamo ora la pagina di Pesaro per quanto riguarda il resto del Carlino si parla di centri estivi di centri estivi ma solo in mezza città così le famiglie sono in affanno perché poi d'estate quando non ci sono più le scuole chi ha i bambini piccoli si trova un po' in problema perché se deve lavorare poi non può dare i bambini però i centri estivi sono una risorsa e poi si parla dei ragazzi del conservatorio datici le aule la statua dei Rossini diventa il set di una protesta si tratta di una singolare iniziativa presa dagli studenti del conservatorio che chiedono spazi ora limitati dai lavori di ristrutturazione in corso e da quelli futuri in una lettera al giornale hanno spiegato le motivazioni che li spingono alla mobilitazione la città sappia delle nostre difficoltà e qui vediamo appunto il simbolo della protesta ora i lavori li dirigiamo noi posto un lenzuolo sotto la statua di Rossini al conservatorio fugge a undici anni e pedala per dieci chilometri paura a ballugola per un bambino sparito da casa dopo un rimprovero velato per la scuola da parte della mamma è stato ritrovato a cattolica aveva lasciato un biglietto io scappo da casa aveva detto papale papale ma è scattata immediatamente la mobilitazione ed è stato ritrovato sano e salvo e poi vediamo come il giornale parli diffusamente della riunione che c'è stata in prefettura a a Pesaro per premiare coloro che si sono distinti nel gestire l'ordine pubblico come da prassi sono stati consegnati in comi e lodi ad agenti e funzionari il questore lascia una terra colta e raffinata Michele Todisco annuncia l'uscita dal servizio tra tre mesi per la pensione insomma un nuovo cambio consegna di testimone dall'uno all'altro e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta chiudiamo i giornali questa mattina vi invito a comprarli andare in edicola e leggere poi gli articoli in maniera diffusa e ora non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento a domani alle ore 7 per la consueta rassegna stampa buona giornata a risentirci grazie a tutti